Sì Stanno curato? Stanno curato? No, si fuori va a essere calciato Per questo, questo ha fatto 2 ore Se vuole intemperare, vuoi dovessi volvere intemperare? No, intemperare no, però... Il limite, il limite è un limite No, non ho l'intemperare No, non ho l'intemperare Che ora è? Puede essere le 9.30 Le 8.30 8.30 Facciamo una mini zapadita Pongo a fare questo e poi lo facciamo No, non ho l'intemperare 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 Non ho l'intemperare No, 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 non ho l'intemperare Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.